Musica Salve a tutti ragazzi benvenuti in quest'altra nuovissima puntata di Prison Jerk Sì siamo con un gioco che si chiama Prison Architect e dobbiamo architettare una prigione Dobbiamo costruirla, siamo arrivati a un bel punto, ho fatto tutto questo, stanno ancora in costruzione C'è tante celle, infatti adesso ne ho 85, stanno arrivando i primi detenuti E infatti vedete adesso li perquisiscono, li spogliano, li registrano Guardate, è nudo questo, non voglio nessun altro detenuto, sì ho messo qualche, ho comprato, ho preso qualche altra guardia Condannato a tre anni per furto d'auto aggravato, bene, 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 questo chi è? Yotobi Yotobi questo Perché questo è in inglese? Corruzione aggravata No Yotobi perché hai fatto questo, la corruzione aggravata Sì ma è lui, guarda Solo che ha un po' di barbetta in più qua sotto, ma è lui, è uguale Non potete dire che non è lui Non potete dire che non è lui Comunque, comunque Bene, arrivano, arrivano, arrivano i nostri detenuti Mmm, è un po' lentino, andiamo di velocità Questo che cos'è? Un camionista Ah, un camionista dei camion Ok, ah li portano direttamente in cella, bene, bene Anche se ancora non hanno l'acqua, non ho capito perché Vediamo un po' Mi sa che l'acqua non ce la fa O perché ancora devono mettere questi Lavori in coda Ok, lavori in coda E io sa che vi dico, adesso faccio pure una cosa così Sbam Ho bisogno di più operai Ne ho tredici Sì dai, aspettiamo un po', tanto finiranno il lavoro Cioè se finiscono almeno qua Allora almeno ci arriva l'acqua Se non finiscono qua, non ci arriva l'acqua Bene, ho fatto quest'altra bella mensa grande qui E effettivamente Devevo fare anche una bella doccia Quindi faccio un'altra fondamenta qui Ah, e un'altra cosa Stavo scarso di soldi Ho visto che noi possiamo vendere e comprare le nostre azioni Le vendiamo prezzo per 22.548 Le acquistiamo per 27.000 Perché la prigione sta andando bene Non ci sono stati morti, bla 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 E ho fatto anche dei prestiti bancari In più possiamo anche vendere la prigione Tranne profitte iniziare una costruzione nuova Prigione con un bilancio iniziale maggiore Potrai comunque continuare a gestire questa prigione Però puoi vederla una volta soltanto Tutti i profitti della vendita verranno trasferiti nel tuo conto Ma non lo sapevo Sennò la prigione vecchia la vendeva e ne facevo Partivo da lì, diciamo così Ok, qua arriva l'acqua Mentre qua ancora no Perché forse ho messo quel tubo, fammi vedere Hanno montato prima questo e c'è viva Qui ancora no Ah, qua forse ho dimenticato questo Ecco questo si l'avevo dimenticato Vai adesso Finite qui, per piacere Parcortasea E gli faccio un altro interlaccio così Bam Ok E sai che vi dico Io qua C'ho quest'altra cucina Però qua passa sopra il muro Qui che cacchio è? Sono le docce Ah, e ho dovuto fare anche un'altra cosa Ho dovuto mettere un'altra centrale elettrica qui Perché quell'altra non ce la faceva più Andava in corto Nonostante ho messo tutte queste cose Andava in corto E per fare un'altra centrale elettrica Ho dovuto dividere i due impianti Cioè questo qui Alimenta solo questa zona qui Della Diciamo Della prigione E l'altra alimenta la zona sotto Con tutto Gli uffici E cose Cose varie Adesso abbiamo a disposizione anche l'armeria Infatti possiamo mettere dei poliziotti armati E la farei lì sotto Sì Però adesso Inizialmente voglio fare una doccia Perché adesso abbiamo tutti questi detenuti Cioè ne possiamo raggiungere fino a 94 Qui non arriva ancora l'acqua Voglio capire che cacchia stanno facendo E non lo so Edificio in cemento Gli faccio un altro bel edificio così Spam Gli chiede un'entrata E gliela facciamo Una bella entrata La facciamo qui con una porta di servizio Spam Così Continuiamo Il nostro progetto E gli facciamo una bella doccia qui sopra Magari di qua no Perché non c'è il modo di passare Però Se faccio un'altra fondamenta qui Potrei fare un corridoio Solo per la doccia E E faccio altre celle poi da quest'altro lato Volendo Vedete il tipo Fondamenta sempre in cemento Tipo così Questo sarà il nostro corridoio In più Facciamo un altro corridoio Qua Bello largo Così Oggetti E gli metto un'altra bella porticina Qua Così Qui è rimasto un po' di spazio Ah e Possiamo adesso Anche Organizzare le pattuglie Tipo pattuglia Adesso possiamo organizzare una bella pattuglia Qua Così Così E così E poi deve anche pattugliare qua Ok Ci siamo Entrate Entrate Vai Quante entrate Ok Abbiamo messo anche le pattuglie A queste celle Qua Poi possiamo fare Le guardie Per pianificare Tipo Che ti devo dire Nella cucina Ci posso Mettere solo personale Ma non lo faccio Perché Con la logistica Posso mettere Dei detenuti A lavorare Lavoratori massimi 2 Qua lavoratori massimi 7 Le ho messi 7 Ok Le abbiamo messi qua Un'altra cosa che ho fatto Ci stavano delle porte A controllo Remote control Però Si sono bugate Non le riesco a togliere Non riesco a fare niente E quindi Le dovete lasciare così Poi Che facciamo Allora Per prima cosa Iniziamo a dare anche un po' di elettricità Qui Altrimenti È brutto Così Allunghiamo anche qui Vai Perché se ne è ancora Ah no Ci stanno le fondamenta Sì 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 A posto Si è costruito Ok Poi dovremo fare la doccia Poi che più Che più Logistica Ok Quindi organizza Possiamo dare il lavoro E quindi potremmo 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 fare uno sgabuzzino In modo da dare E una lavanderia Anche quindi Forse qui lo faremo Tipo sgabuzzino Lavanderia Doccia Queste cose così Per dare i lavori Ai nostri dipendenti Anche l'officine Sì io direi di fare così Allora stanza Tipo sgabuzzino Eccolo qua Ripostiglio Deve essere minimo 3x3 Ok Quindi quanto una cella Quindi progettiamo Se io qua voglio fare 1,2,3 E quindi questo è un muro Da 4 e 4 Questo è uno sgabuzzino Ok 3x3 Poi ne riesco a fare un altro Sì ne riesco a fare giusto 2 così Quindi credo che dovremo continuare Su questa linea Per quanto riguarda lo sgabuzzino 2 penso che vanno bene Mentre la lavanderia Se ce la da Lavanderia Eccola qui la lavanderia Requisiti Stanza Niente Interno Lavatrice Portabiancheria Seda stiro Ah non ha requisiti L'armeria la facciamo giù No qui Biblioteca Un 5x5 Ecco Selvicoltura De stare all'esterno Un 5x5 E così qua Se la selvicoltura Gliela farei qua Abbiamo questo spazio qui E chiudiamo il quadrato qui Magari Così Tarata Tarata Chiudiamo così Voglio vedere che cacchio è sta selvicoltura Muro perimetrale No Facciamo un recinto Così grande Facciamolo così Così Stanza Selvicoltura Adesso Adesso non vedo Se non fanno i muri Non riesco a vedere Oggetti Gli mettiamo una bella porta del personale Qui E la porta del personale Qua Ok Se mi fate vedere il perimetro Ok Quindi posso fare Selvicoltura Qui Sam Cosa ci serve Niente Deve stare all'esterno E basta Non ci chiede niente Però sta aumentando la minaccia 30 e 31 hanno gravi disagi I 7 disegni sono stati perquisiti Di 10 anni senza motivo Se hanno cominciato a nervosirsi Qua per il punto Ognuno sta nelle proprie celle Però non si riesce a capire cosa vogliono Comunque Io ho dato anche la selvicoltura Che volete di più La selvicoltura Una cultura selvaggia Ok Mandiamo anche un po' di elettricità Qui Clicca destra Per cancellare No Quindi se io faccio Organizza Logistica Lavoro in coda Installare Tree in foresty Ah Andiamo a mettere gli alberi Giusto Ah Ci sono state già messi Quindi devono crescere Questi alberi E' la nostra responsabilità Vabbè Ma questi qua Quasi qua Se gli mettere le finestre Perché non glielo ho messe 1 2 E 3 Perché ci stanno all'esterno Anche questi Vai 1 2 E 3 Vai Vi ho messo anche le finestre Ok Allora Ah Lavoro in corso Ah Il giardiniere Lavora qui Quindi facciamo una cosa Mettiamoci Ne abbiamo solo uno Ne mettiamo due di giardinieri Ma scialla Boh Non lo so Comunque Allora Abbiamo detto Ripostigli Facciamoli così Quindi Progettiamo meglio L'entrata Del ripostiglio Facciamo Qua L'entrata del ripostiglio Qui E un'altra Dobbiamo farla qua Quindi qui Comunque dobbiamo lasciare Dello spazio Per continuare Facciamo i nostri Belli muri Cari Così Stanze Ripostiglio 3x3 3x3 Funziona Va bene Serve qualcosa No Si è cancellato tutto Oggetti Ci può andare Nel ripostiglio L'ordine L'ordine È importante Quando si tratta Di contrabbandi Vabbè Magari Gliela mettiamo Una porta No Pure una porta Semplice Gliela mettiamo Cosa ci potrebbe andare Nel ripostiglio Cioè Più che Cioè A che serve Più che altro Ripostiglio Un tappeto Che cacchio Stanno mettendo Dentro Pila Contenuto Candeggina Per 10 Ah boh Gli mettono le cose Dentro Vabbè 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 Passiamo avanti Facciamoci una bella Lavanderia Una bella Lavanderia Quindi io direi Che la lavanderia Perché mi ha portato Da quest'altro lato Oh Allora Lavanderia Dobbiamo Facciamo un bel muro Così Facciamo così E così E gli facciamo la porta qua Direi che questo Sia la cosa migliore Facciamo quindi Così 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 Stanze Lavanderia Lavanderia Eccola qua In modo che noi riusciamo a vedere Dove dove devono costruire i muri Ha bisogno di un Interno Ok Ci abbiamo fatto Lavatrice Porta biancheria E asse da stiro Quindi Lavatrice Eccola qua Ne mettiamo Tre lavatrici Porta biancherie Una Due E tre E asse da stiro Asse Da stiro Uno E lo metto E lo metto qui Questo lo continuo Qui E lo metto qua E lo metto qui c'è da stiro E lo metto qui c'è da stiro